Potrebbe essere davvero una fiera da record la 37esima edizione della fiera del Madonnino che aprirà i battenti nel centro fieristico di Braccagni il 23 aprile e proseguirà fino a domenica 26. Record intanto è già quello relativo agli espositori che sono saliti a quota 320 e hanno aumentato anche la richiesta di spazi espositivi, tanto che la società Grosseto Fiere è stata costretta a ridurre i corridoi per il passaggio del pubblico da 10 a 7 metri. Un incremento di richieste in controtendenza con quanto accade in altri poli fieristici, per quello che ormai si candida ad essere un appuntamento di carattere nazionale. Continua diciamo il trend positivo di Grosseto Fiere, infatti abbiamo quest'anno raggiunto il numero massimo degli ultimi 10 anni di espositori presenti toccando un aumento del 10% generale rispetto alla più alta edizione dell'ultimo decennio e quella cosa che secondo me è importante da sottolineare è che abbiamo avuto un aumento del 25% degli espositori provenienti da fuori della regione toscana. Questo per significare che Grosseto Fiere e il nostro Madonnino sta avendo sempre più una connotazione interregionale, quasi nazionale, come merita. E il settore agricolo e quello dell'agroindustria a manifestare maggiore vivacità? Oltre l'80% infatti delle superfici espositive a tema agroindustriale. Abbiamo la mostra nazionale della Chianina che è stata una grande vittoria del territorio e sicuramente abbiamo un ritorno del movimento terra, il florovivaismo, abbiamo i giardini di marzo, abbiamo tante fiere in una e sicuramente il mondo agricolo sta reggendo. Anche l'artigianale c'è una leggera flessione del commercio però sicuramente la fiera del Madonnino è incentrata diciamo grandemente o preponderantemente sul mondo agroindustriale. L'ingresso del pubblico è previsto con un orario continuato dalle 9 alle 18, il biglietto d'ingresso ha un costo di 7 euro, il parcheggio è gratuito ma l'area fieristica è servita anche da un bus navetta gratuito che ogni ora fino alle 16.30 parte dalla stazione di Grosseto e ferma in Viale della Repubblica al velodromo in via Senese davanti all'ospedale e poi riparte dal Madonnino per il ritorno. C'è da sperare solo nel meteo? Sicuramente, quella è l'unica cosa su cui purtroppo umanamente si può incidere ben poco se il meteo ci assisterà sarà il più grande Madonnino degli ultimi 15 anni.